Per ogni balla che ti si rifila, devi soltanto guardarti un po' intorno, così non la berrai. Producevate in 16.160 macchine al giorno, uno ogni cento perai. Passano gli anni, man mano si affila, il nuovo metodo di sfruttamento, anche se tu non vuoi. Ora che voi siete in 40.000, ne producete 3.600, uno ogni dieci di voi. Erano cento perai per un'auto, cento qualifiche professionali, il meglio che ci sia. Ora il profitto, se fatto più l'auto, bastano i dieci, solo più manovali di terza categoria. Crescono le auto, cresce il profitto, cresce il prodotto, da detto per ora, gli utili delle aziende. Crescono i prezzi, cresce l'affitto, crescono gli obblighi di chi lavora, ma la qualifica scende. Sempre più soldi e più capitali, in mano a sempre più pochi padroni, più forti e più protervi. Sempre più balle a mucchi, a quintali, per gettar fumo negli occhi ai rusconi, che sono sempre più servi.